Via Imele a Pescara, pochi metri di strada tra via Tavo e via Lago di Capestrano nel quartiere Rancitelli, dove per Domenico Pettinari, candidato sindaco civico per le prossime elezioni comunali del capoluogo adriatico, esiste un problema a sicurezza da risolvere. Tra spaccio e delinquenza, più volte denunciati, si tratterebbe anzi di una vera e propria emergenza sociale che il governo cittadino dovrebbe trattare in sinergia con le forze dell'ordine, come spiega lo stesso Pettinari. Qui siamo nella strada, io direi, la più pericolosa non solo della città di Pescara ma dell'intera regione Abruzzo. Qui non dimentichiamo c'è stata l'operazione antimafia un anno, un anno e mezzo fa. Noi abbiamo fatto delle passeggiate della legalità qualche mese fa, siamo stati qui quasi tutte le sere, siamo stati anche aggrediti, dobbiamo dirlo, hanno tentato anche di investirci con una macchina. Ci hanno lanciato una forchetta che ha sfiorato di un centimetro la testa di un nostro candidato. Siamo tornati qui per raccogliere le denunce dei cittadini onesti che non ce la fanno più. Queste sono case di proprietà, non sono case popolari e purtroppo c'è un traffico continuo di balordi tossicodipendenti, anche prostituzione. C'è un viavai all'interno di alcune abitazioni, hanno contato che entrano circa 100-150 persone al giorno, quindi molto probabilmente vanno a prendere droga ma non solo, anche su strada si vedono cessioni di droga. E poi vanno nel vicino parco di Via Lago di Capestrano, ammassati su quelle panchine che precludono anche il transito dei pedoni che devono andare dall'altra parte della strada. Quindi ci sono zone completamente off limits. I cittadini onesti chiedono interventi. Noi siamo qui oggi anche per proporre il nostro programma di governo cittadino. Se dovessimo vincere e governare questa città, cosa chiediamo? Immediatamente l'operazione strade sicure. Quindi una richiesta al Ministero della Difesa che possa dare anche all'esercito i militari che possano coadiuvare le forze dell'ordine per fare pattugliamenti H24, pattugliamenti H24 a piedi per garantire la seguirezza in questa zona. La seconda cosa che diciamo, qui ci vuole un sistema di videosorveglianze. Udite, udite, vediamo telecamere sui palazzi che sono puntati sulla strada pubblica, molto probabilmente per cui qualcuno si vuole proteggere dalle forze dell'ordine, ma non vediamo telecamere del comune che possano sorvegliare questa zona. Terza cosa, un pronto intervento sociale, portare qui sociologi e psicologi perché tante persone, tantissimi giovani vanno recuperati. Qui ci sono giovani prostitute che si vendono il proprio corpo per pochi spiccioli per poi venire a comprare la droga in questi posti. Ecco, questa è una situazione veramente invivibile, non possiamo lasciare i nostri cittadini di queste periferie completamente abbandonati perché qui non ci sono cittadini serie B, qui ci sono cittadini che devono avere pari diritti degli altri cittadini che vivono in altri quadranti della città di Pescara. Noi ci siamo, non abbandoneremo mai queste persone e a giugno i cittadini se ci manderanno a governare questa città sicuramente ripartiremo da queste zone.